Vi farò vedere come preparare tessalatini con due confezioni di pasta sfoglia. Ho due confezioni di pasta sfoglia, mozzarella, origano e il sugo pronto. Adagiate su una teglia con carta da forno. Ed ora andremo a mettere il sugo sopra. Ecco fatto, ora mettiamo la mozzarella. Mettiamo un po' di origano. Ora dobbiamo ricoprire con l'altra pasta sfoglia. Chiudete bene i bordi. Potrò mettere anche dei semini, volendo. Ed ora andremo a ritagliare. Chiudete bene i bordi. Una volta terminato, forno caldo, 180 gradi, più o meno 15-20 minuti. Questi sono i salatini pronti. Adesso andiamo a staccarli uno per uno. Ecco i salatini pronti. Grazie. 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 Grazie.